Bene, ancora una volta buon pomeriggio a tutte e a tutti. Dunque abbiamo, ci segue anche da Zoom, grazie anche a chi segue questa giornata WSO da remoto e ci stiamo preparando appunto alla Fashion Week. Dunque è ormai tutta la giornata che ci scambiamo delle opinioni, abbiamo ascoltato presentazioni, mi scuso se siete oppostanti, facciamo uno sforzo finale per questa parte appunto finale della giornata, è quella più intelligente, più divertente e anche quella più fashion appunto. Lo vedrete, sarà comunque un piacere e sarà arricchente per tutti noi perché si impalerà e si vedrà bellezza. Allora oggi abbiamo questa breve conferenza, questa ora appunto sul fashion, sulla moda sostenibile. Allora io mi occuperò della presentazione iniziale, quindi faccio riferimento all'impatto ambientale del fashion con le varie iniziative per tentare di ridurre questo impatto e poi vi parlerò appunto di diversi progetti. Abbiamo anche dei rappresentanti ovviamente dei mass media che non possono mancare, facciamo riferimento anche ad organizzazioni, quelle che rappresentano il vasto pubblico, la società civile e tutti noi infatti lavoriamo per ridurre l'inquinamento, per ridurre i rifiuti. Bene, allora il comparto moda, il fashion, lo chiameremo, è veramente molto molto grande. Allora si parla di 3.000 miliardi di dollari, è veramente un fattorato enorme. Perché questo? Questo ci aiuta, come dire, non solo ad alimentarci, ne parlavamo stamattina con prodotti alimentari, ma dobbiamo anche giustamente vestirci. Quindi è una conseguenza enorme questo, cioè è un comparto che per forza di cose è molto grande. E ci mi piace vedere che è un comparto che sta crescendo, perché? Perché al mondo sta crescendo la popolazione, abbiamo anche dei paesi emergenti che stanno appunto emergendo, scusate il gioco di parole, a parte guardate questo gradino, questo scivolone Covid 2020 in cui è chiaro che insomma non era possibile uscire di casa, né si poteva andare a fare shopping. Vedete che il mercato per quanto riguarda l'appigliamento in generale è in aumento da anni. Ora, come sempre ormai è la Cina che svolge un ruolo fondamentale in questo mercato, lo vediamo qui nella torta in alto a sinistra, guardate quindi gli acquisti, il valore degli acquisti moda effettuati da ogni singolo paese. È però vero che la Cina appunto ha questa enorme popolazione. Per quanto riguarda invece il consumatore medio cinese, in media, i cinesi spendono però solamente un quarto di quello che spende un cittadino americano e si compro veramente molti, molti meno pezzi all'anno. Questo in pochissime parole è una panoramica. Per quanto riguarda il Regno, meglio ancora, l'Unione Europea, guardate è la Norvegia che, visto il costo della vita molto elevato, è quella che spende di più. La Cina è anche la principale esportatrice al mondo ed è seguita proprio da noi, dall'Unione Europea, poi arriva l'India, la Turchia e arrivano gli altri emergenti che seguono a livelli abbastanza elevati. È interessante vedere che la nuova generazione, la generazione Z e anche altre, lo sanno bene, la quota e-commerce è una quota che sta aumentando rapidamente. Pensate che in questo momento, nel comparto moda al mondo siamo già al 38% di e-commerce. Per quanto riguarda invece i brand della moda, dunque questi brand sono sotto il controllo appunto, parlo veramente dei più noti, di quelli più conosciuti, sono di proprietà di alcuni gruppi fashion che stanno diventando veramente molto grandi. Qui trovate l'elenco e qui in questa diapositiva affollatissima, guardate, questa immagine vi fa vedere come appunto questi canali, questi raggruppamenti hanno luogo, quindi Richemont, Kering, LDMH. Dalla parte è impressionante, devo dire, questo affollamento perché noi vediamo questi brand per strada e diciamo, vabbè, questo è diverso dall'altro, quello è particolare e poi non sappiamo magari che lavorano anche nello stesso gruppo con un eccellente approccio marketing. Tutti questi brand cercano di soddisfare tutte le nostre richieste impressionanti. Ripeto, in effetti la produzione è enorme di abbigliamento o meglio di fashion in generale. È però vero che a volte queste società decidono gradualmente, ed è esattamente ciò che sta accadendo in questo momento, di ridurre il loro impatto ambientale. Quindi è bello vedere che stanno tutti introducendo delle iniziative per andare in questa direzione. È qualcosa che sta accadendo. Sì, so che a volte dovrebbe esserci un po' di effetto facciata, di greenwashing, se ne parlava velocemente anche stamattina, motivo per il quale sono molto importanti le certificazioni, per cercare di capire veramente se queste grandi società stanno facendo ciò che ci stanno dicendo. Sapete bene che l'abbigliamento è realizzato con tanti diversi tipi di fibre. A volte utilizziamo il termine fibre naturali, quindi solitamente quelle che arrivano dal mondo vegetale, dall'agricoltura, a volte anche dagli animali, come la lana. A volte anche fibre minerali, che posso fare riferimenti in questo caso alla cellulosa. Poi però abbiamo anche delle fibre che creiamo noi, come quelle bio, oppure il poliestere. Ora, lo vedete nei grafici invece a destra. Guardate il poliestere, è la linea rosso. A partire dal 2000, ma devo dire anche da prima, per cui già negli anni 80-90 c'è stato un aumento incredibile proprio a livello di percentuale che troviamo appunto negli abiti. In questo momento pensate che siamo al 70% di abbigliamento mondiale realizzato in poliestere. L'altra fibra, o materiale che è cresciuta molto perché è raddoppiata, insomma dal 15% al 30%, è il cotone e quindi conseguentemente anche la produzione di cotone. Le altre, vedete, svolgono un ruolo sì importante, ma molto più piccolo, di poliestere di cotone. Ce ne sono diversi gli indicatori che tentano di valutare quello che è l'impatto generale, totale dei tessuti sull'ambiente. L'indice HIG, anche questo, utile, ma criticato. Ma è normale. Allora, abbiamo delle evidenze, cioè delle prove, che ci dicono che cosa. Beh, noi sappiamo che in media, e di nuovo, apro una parentesi, ecco perché è importante avere certificazioni che ci fa veramente vedere e capire come sono fatti questi prodotti. Chiudo parentesi. Le fibre naturali sono quelle più interessanti adesso, sono quelle che arrivano dal mondo agricolo, come dicevo prima, anche dall'allevamento, cioè degli animali. Lo stesso dicasi, guardando l'indice HIG, quando appunto parliamo di carne o di animali che vengono allevati per trasformarli in carta, sapete ci si la metta perché ci bisogna in quel caso di molti terreni, di molto spazio, di molta acqua. C'è però un MA, anzi un MA con la M maiuscola per così dire, e cioè le fibre artificiali, come sappiamo, molto spesso non sono biodegradabili alla fine del loro ciclo di vita. E sappiamo anche che queste sostanze possono trasformarsi o produrre in microplastica quando sono lavate, per cui di certo abbiamo degli impatti negativi. Ora, vi devo anche ricordare che non dobbiamo comunque demonizzare nessuna fibra, nel senso che ognuno comunque ha degli utilizzi appropriati e tutti hanno sicuramente potenziale di miglioramento. Quindi esistono tutte, e direi per fortuna, quello che noi dobbiamo fare è motivare le società, i produttori, i brand di generale a ridurre l'impatto, indipendentemente dal tipo di tessuto o di fibra che utilizzano. Come conseguenza di questa elevata sensibilità o anche sensibilizzazione, si dice appunto eco, fibre, eco, tessuti, qui in effetti vi faccio vedere la tendenza eco negli Stati Uniti, anche qui si parla di riciclaggio, si parla sempre di più di bio e di alcune altre, chiamiamole pure caratteristiche che adesso ne possiamo considerare come prodotti eco. C'è anche un altro problema per quanto riguarda il consumo di questi prodotti. Si fa riferimento oggi alla FF, cioè alla Fast Fashion. Quello che vi faccio vedere qui in questa slide, e provo anche a utilizzare il puntatore, guardate, riusciamo a vedere, guardate, che stiamo riducendo, come dire, il numero di volte in cui in media noi utilizziamo un capo d'abbigliamento. Guardate, eravamo alcuni anni fa a 200 volte, adesso siamo a 140-150 volte. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutti quanti noi in media andiamo a comprare probabilmente troppo, troppi prodotti che troviamo lì in negozio e poi a volte lasciamo in armadio e chissà quante volte ci è successo anche di dimenticarci di avere dei capi d'abbigliamento che quindi non mettiamo. Questo vuol dire aver fatto esplodere il numero di pezzi venduti e, ahimè, di conseguenza anche gli scarti. Questo dipende anche molto dalle strategie di marketing di molti brand del Compact of Fashion, in modo particolare quelli più grandi, perché sapete bene che hanno veramente un grande potere. I grandi, grandi brand che noi vediamo, basta fare due passi a Milano, in costruzione Emanuele, che trovate veramente delle decine. Questi brand cosa stanno facendo? Beh, si stanno spostando da quello che io chiamo ciclo tradizionale del fashion, cioè con due cicli all'anno, fondamentalmente la classica stagione, primavera estate e la contro stagione, autunno-inverno, a moda che cambia addirittura per alcuni brand 50 volte all'anno. Per alcuni brand con le vendite online ci sono nuove tendenze o qualcosa di nuovo da proporre 50 volte all'anno. Questo ci fa venire voglia di comprare sempre più spesso anche dei capi che poi non ci servono o non sono utili. Quindi, a seconda anche del prodotto che noi compriamo, sarebbe bene a rallentare questa mania. E guardate questi dati, c'è un'altra conseguenza. Succede che il comparto test degli abbigliamento viene considerato in questo momento uno di quelli con maggior impatto ambientale. Vi dicevo prima che c'è un grosso problema con le microfibre, che sono quelle che vengono realizzate appunto con delle fibre artificiali, appunto il poliestere è il primo di tutti. Allora è chiaro che il prodotto potrebbe essere riciclato per fare qualcosa di utile per la natura e purtroppo c'è quindi molto inquinamento. Abbiamo anche dei casi estremi come il lago di Aral. Si parlava dell'utilizzo di acqua per produrre cotone. Qui abbiamo un esempio appunto di produttori di cotone come appunto diversi coloranti che poi utilizziamo per il colore. Questi coltivatori utilizzano delle buone prassi. Certo, bisogna sottolineare in effetti che qualcuno utilizza anche delle buone prassi. Però guardate il lago di Aral, che in questo momento è un decimo della sua dimensione, l'estensione d'origine. Perché? Perché i fiumi che lo riempivano di acqua sono stati brigliati. Tutta quest'acqua utilizzata per i campi di cotone in Uzbekistan. Abbiamo altri esempi di grandi conglomerati urbani. Guardate, qui siamo in Indonesia e queste conurbazioni generano purtroppo un livello insostenibile di inquinamento. Dopodiché abbiamo un altro tipo di impatto. Questo impatto lo definirei quello della cosiddetta responsabilità sociale. Questo vuol dire che il comparto fashion, così come il comparto food, hanno bisogno ovviamente di milioni e milioni di braccia e anche di cervelli. Perché da una parte questo fa piacere perché sono forze di lavoro. Ma dall'altra questo genera un'enorme differenza per quanto riguarda i livelli di retribuzione medie nei vari paesi. Guardate gli istogrammi orizzontali in alto a destra. Una differenza enorme, ripeto, a livello di retribuzione. Quindi di nuovo situazioni estreme, in alcuni casi lavoro forzato, lavoro infantile e poi degli stipendi veramente molto molto bassi che purtroppo non permettono neanche di coprire, pensate, in alcuni paesi neanche il 60% del costo della vita. E quindi queste persone vivono purtroppo in grande difficoltà. Senza parlare poi della carenza o della mancanza totale di provvedimenti di sicurezza. Fate riferimento quindi a Rana Plaza, lo ricorderete, circa mille persone che sono morte e degli stabilimenti che purtroppo non utilizzano ancora delle misure di sicurezza appropiate. Allora, sempre parlando in generale, giustamente vi evito i dettagli di questo settore, il livello comunque di interesse, ma anche di consapevolezza, il desiderio, come dire, di pagare per queste misure è cresciuto in modi diversi di nuova a seconda dei vari paesi. L'Asia sta lavorando moltissimo su questo e questi numeri sono troppo piccoli, quindi era semplicemente una diabo che vi fa capire che questa consapevolezza ambientale, la richiesta, cioè di sostenibilità, sta diventando un driver fondamentale per i consumatori di tutto il mondo che adesso appunto sono disposti a pagare di più. Guardate il grafico in alto a destra. Sono disposti in alcuni paesi a pagare di più per dei prodotti che sono certificati per cui si può confermare che siano sostenibili. Allora, vado velocemente su queste diabo, sono molto ricche di testo. La conseguenza di questo livello di consapevolezza in aumento nelle menti dei consumatori ci permette di apprezzare sempre di più le introduzioni di certificazioni. Ora, abbiamo delle certificazioni che sono un po' più deboli, qualcun'altra è una certificazione che riguarda i conto terzi, in alcuni casi come il B Corp si fa riferimento in generale alle buone prassi generiche di quell'organizzazione, altre ancora come la GOTS, G-O-T-S, si fa riferimento all'origine bio delle fibre, Ecotex invece si concentra su un'altra area, cioè proprio sulla lavorazione effettiva di questi materiali assieme all'utilizzo, come definirli? Beh, proprio di strumenti, macchine e anche additivi che sono tra virgolette amici degli ambienti. Ce ne sono degli altri che riguardano la responsabilità sociale d'impresa e altre ancora. La nostra organizzazione, WSO, che cosa fa in questo quadro? Beh, innanzitutto vi devo dire che abbiamo sviluppato diversi standard per la certificazione di prodotti e servizi sostenibili, ancora una volta. Stamattina se ne ha parlato, per chi era con noi, abbiamo parlato veramente moltissimo di sostenibilità, di certificazione del pesce, dell'acquacultura. Sviluppiamo standard per prodotti sostenibili anche nell'agricoltura e nell'allevamento. Ecco perché è stato naturale per noi mettere a punto un altro progetto per cercare di certificare il fashion sostenibile, quindi il test di abbigliamento sostenibile. Qui avete tanti schemi, tante pagine di questo reparo che vi fanno capire tutto ciò che è stato fatto a livello di certificazione. Qui vedete anche i vari stanta, dalle norme e i requisiti che devono essere rispettati. Ora vi ricordo che la certificazione è aperta ad entrambi i tipi di fibre, cioè prodotti realizzati con fibre naturali oppure prodotti realizzati con fibre artificiali ma sintetiche. È chiaro che i liquidi sono diversi ed è altrettanto chiaro che insomma in alcuni casi abbiamo delle vie di mezzo, cioè non 100% naturale, non 100% sintetiche e relative linee liquide. Ho fatto del mio meglio per metterci tutti i brand, se qualche brand è presente in sala e non lo vedete nella slide, mi scuso, ditemelo e l'aggiorgerò. Questi brand però negli ultimi mesi sono quelli che sono uniti al nostro progetto. Sono brand che rappresentano mai il mondo intero, quindi il numero ma anche origine è in aumento. C'è una recentissima, ad esempio dall'Egitto che non ho avuto il tempo, guarda, di colorare verde. Poi nell'apaco proprio degli ultimi mesi, ancora una volta, parliamo un massimo di 18 mesi. Ebbene, in questi 18 mesi questi progetti sono stati già oggetto di articoli della maggior parte dei media e molti parente, giustamente si fanno notare anche per questa sorta di sforzo. Guardate Pure London, qui si fa riferimento a questa grande esposizione appunto di, come dire, sistemi sostenibili per l'abbigliamento. Pochi mesi fa noi abbiamo aperto un nuovo concept store nel cuore di Milano. Vi invito veramente a fare un salto in questo punto vendita. Qual è l'obiettivo? Vogliamo diventare l'hub della sostenibilità a Milano. Il piano più alto facciamo dei colloqui con le persone professioniste a livello di sostenibilità, di conservazione. Però è un piacere parlare anche con chi passa il negozio, con studenti e tutti coloro che vogliono lasciarci un'opinione per quanto riguarda la sostenibilità. Invece al piano terra abbiamo, anzi parliamo, facciamo vendere accessori e prodotti di brand che sono stati già certificati da enti certificatori esterni. E' il quarto punto vendita di questo tipo in Europa ed è il primo in Italia. Una volta tutto questo è fatto per aumentare il livello di consapevolezza, è una sorta di campagna costante, se volete, di sensibilizzazione. Ora abbiamo messo a punto anche la nostra carta fedeltà e dovrebbe essere distribuita qui dagli organizzatori dell'incontro. Se volete sapere di più su quelle che sono tutte le nostre attività attuali, ma anche di qualche tempo fa, vi invito ad andare sulla nostra pagina YouTube, andate a cliccare quindi sui vari video disponibili. Bene, io termino qui. Vi ringrazio dell'attenzione e fra qualche minuto, prima ancora della sfilata, andrò a presentare tutti i brand. Avremo una di Apple per ogni singolo brand, con le caratteristiche del brand e soprattutto con l'engagement, cioè con il coinvolgimento e l'impegno per la sostenibilità ambientale. Grazie ancora. Bene, adesso ho il piacere di invitare i nostri primi ospite di oggi pomeriggio. Il primo guest oggi, il primo ospite è dall'officiale. È un fashion media molto importante. Giorgia Cantarini è una giornalista a comparto moda. Giorgia, vedi tu, puoi parlare o inglese o italiano, come vuoi. Allora, nessun problema con l'inglese, quindi se volete vado avanti in inglese. Bene, io sono Giorgia Cantarini, sono giornalista, sono una stilista, faccio anche talent scouting. Con il mio lavoro di giornalista cerco di aumentare il livello di consapevolezza sulla sensibilità. Questa parola l'ho sentita diversi anni fa e ricordo in quel momento lavoravo per un quotidiano importante, veramente non dico il nome, ma molto, molto importante. Avevo proposto appunto di scrivere sulla moda sostenibile e ricordo che volevo parlare proprio di responsabilità, di sostenibilità, perché le grandi company cominciavano appunto a pubblicare questi report. Mi hanno detto no, 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 la moda sostenibile è orribile, non ci importa, non è interessante per i nostri lettori elettrici. Questo invece che mi ha incoraggiato a cominciare a questa ricerca e a lavorare appunto sul senso di questa parola, sul significato e pian piano quindi i brand sicuramente si stanno occupando sempre di più del nostro pianeta. Dopo alcuni anni ho scoperto che non è vero che i brand sostenibili non siano belli o desiderabili, semplicemente bisogna associare le giuste tecniche, avere le giuste risorse e sicuramente ci vuole anche un design, uno stile eccetera. Durante gli anni Covid mi sono preso una pausa, ho riflettuto e quindi mi sono chiesta cosa posso fare, cosa posso fare per aumentare questo livello di sensibilizzazione, formare le persone, informare, abbiamo tantissime alternative ai brand principali oppure alla fast fashion. Quindi ho cominciato a fare tante ricerche sul web e ho trovato che in effetti c'erano e ci sono tanti nomi veramente molto interessanti. All'attenzione, non tutti sono sostenibili perché? Perché la maggior parte di questi brand è rappresentata da piccoli brand che magari appunto non hanno le risorse sufficienti per il momento per diventare sostenibili al 100%, però sono veramente già responsabili. Cosa vuol dire responsabili? Vuol dire che questi brand non sono ancora ripeto al 100% sostenibili, ma almeno lavorano implementando i principi della sostenibilità. Per me la sostenibilità è un percorso ed è assolutamente impossibile essere al 100% sostenibile, questo ce lo diciamo perché lo sappiamo. Quindi nel 2020 sono andata da PT Uomo, quindi è lo salone principale per la moda maschile, ho proposto questo progetto che si chiama XStyle, quindi S come sostenibile, per fare vedere qualcosa come 10, 15 brand emergenti provenienti da tutto il mondo solo per abbigliamento maschile, perché appunto per la donna c'erano già tante offerte, come dire, sul mercato. Quindi cosa ho voluto dire e fare? Ho chiesto, ma perché non facciamo qualcosa appunto per il fashion maschile e cerchiamo di educarli anche i buyer, che sono quelli che poi vengono in fiera o in salone o alle sfidate per comprare in modo alternativo. Abbiamo cominciato e adesso nell'ultima edizione, che è stata appunto adesso nel giugno di quest'anno, 2023, pochi mesi fa, abbiamo siglato la prima grande partnership con il progetto con il gruppo Kering. Kering appunto ha deciso di sponsorizzare direttamente il progetto, ci dà accesso quindi a tutti quanti i loro brand e collabora con tanti piccoli brand. Cioè dentro Kering c'è questa divisione, una divisione che ormai da dieci anni, pensate, lavora proprio per l'education, quindi formano i team di design e anche il team di prodotto all'interno del gruppo Kering per utilizzare materiali alternativi. Ora loro però, parlo ancora interessante, verificano la fonte di questi materiali, da dove arrivano chi li ha realizzati, come, quante risorse naturali sono state utilizzate per sviluppare questi nuovi prodotti tessili. Quello è successo poi al progetto che l'ho trovato interessante, beh c'è stata la possibilità per i designer di poter avere accesso a queste innovazioni. Perché? Perché la sostenibilità di nuovo, ricordiamo, vuol dire innovazione. E anche per sviluppare subito una capsule, quindi una piccola collezione utilizzando questi strumenti e questi tessuti. Qual è stato il risultato? È stata una piccola squilata che abbiamo organizzato e ha ottenuto un grande successo sia per i designer, perché i designer in effetti hanno proprio imparato grazie da loro fare, e poi grazie anche al pubblico, perché il pubblico finalmente ci ha detto questi brand sostenibili, meglio ancora, responsabili che un giorno saranno sostenibili, sono in effetti molto interessanti. E alcuni di questi adesso, beh, li trovate proprio in negozio, nei vari punti vendite. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna continuare a avere supporto, assistenza a questi brand e continuare ad investire, perché ovviamente alcune delle proposte di questi brand, come dire, in questo momento circolta alimento giusto, non sono ancora abbordabili, insomma, non sono ancora, ecco, abbordabili certamente come il fast fashion, però se noi continuiamo a consumare in questo modo, sicuramente noi avremo più a cuore il pianeta e sicuramente più a cuore gioco di parole, anche il nostro cuore, noi stessi. Vi grazie moltissimo alla WWSO, grazie mille per l'invito, è stato un piacere condividere questa testimonianza in bocca al lupo per i vostri progetti, perché sono interessanti e c'è una lunga strada da fare insieme. Grazie. Giorgia, grazie mille. Allora, se avete domande non esitate, adesso oppure anche tra qualche minuto a fine di queste presentazioni, basta alzare la mano, vi portiamo il microfono. Le domande, adesso dopo potete alzare la mano, eventualmente farò io delle domande sia a Giorgia che al rappresentante, ad Alfio Fontana che invito a presentarsi qua per lo speech di Humana Italy. Ti ringrazio per la tua presenza e siamo lieti di scoprire quante cose positive e interessanti fatte anche in collaborazione con altri brands o a livello internazionale addirittura. Grazie Paolo, buonasera a tutte e tutti e grazie per l'invito. Io ho partecipato a tutta l'intera giornata e vi posso garantire per chi non c'era una carrellata di interventi molto molto interessanti, di spessore e la sostenibilità è stata affrontata con concretezza e questo mi è piaciuto molto. Io sono Alfio e mi occupo di Corporate Social Responsibility e Partnership in Humana People to People Italia. Humana People to People è un'organizzazione internazionale che si occupa di cooperazione, contrasto alla crisi climatica e aiuti umanitari. Nasce negli anni 70 in Danimarca, oggi è presente in 46 paesi nel mondo, siamo oltre 20.000 collaboratori e collaboratrici e quello che ci caratterizza ed è il motivo per cui mi trovo in questa conference sulla sostenibilità nel settore della moda è la raccolta degli abiti usati. Humana People to People raccoglie abiti che i cittadini decidono di donare, se ne prende cura e attraverso un'attività di selezione, smistamento, commercializzazione trasforma questi abiti nuovamente in risorse. Questo è importantissimo perché quando parliamo di abbigliamento spesso non pensiamo all'impatto ambientale che il settore del tessile e della moda ha. Il settore del tessile è la quarta categoria per pressione sulle materie prime dopo trasporti, cibo e abitazioni. Le Nazioni Unite ci dicono che circa il 10% delle emissioni globali possono essere responsabilità del settore tessile. Si stima che il 20% dell'inquinamento delle risorse idriche derivi dal settore tessile e dalla moda. Questo non deve essere uno scenario catastrofico e non deve voler rappresentare delle colpe, però ci deve far riflettere su che cosa possiamo fare. Quindi il fatto che le cose non vadano benissimo non va visto come colpevolizzare, accusare o essere negativi, ma ci deve far riflettere sulla responsabilità che ognuno di noi ha nel dover fare qualcosa. Gli abiti che raccogliamo, quindi come dicevo prima, vengono da noi selezionati e smistati. Circa il 67-68% di quello che selezioniamo ha ancora la dignità per essere indossato e viene quindi da noi commercializzato, perché la commercializzazione di questi capi valorizza al massimo quel prodotto che ha sottratto grandi risorse naturali per essere generato. Dopo essere stato commercializzato il prodotto arriva nei nostri negozi. Humana ha oltre 500 negozi in Europa, ne ha 15 in Italia, 4 sono a Milano, probabilmente molti di voi li conoscono, hanno il brand Humana Vintage o Humana People e essendo una onlus da statuto tutti gli utili che derivano da queste attività servono a finanziare progetti ad impatto sociale e ambientale nel mondo. Le aree tematiche che presidiamo sono la salute, l'istruzione, l'agricoltura sostenibile e lo sviluppo comunitario. In Italia nel 2022 Humana ha raccolto oltre 20.000 tonnellate di abiti, quindi oltre 20 milioni di chili di abiti che sono oltre 60 milioni di capi, capi che quindi possono tornare ad essere una risorsa. Quando il capo non ha più la dignità per essere indossato viene avviato alla filiera del riciclo. Prima Paolo ci faceva vedere quali sono gli impatti del settore della moda e quali fibre naturali oggi possono tornare ad essere fibre. Quindi quando parliamo di cotone, cashmere, seta, lana, effettivamente in quel caso la filiera del riciclo può restituire al capo il tessuto necessario per produrre altro. Quando invece il capo è prodotto con più materiali, non solo materie prime, questo rende più difficile la trasformazione nuovamente in fibra e quindi viene spesso utilizzato da aziende dell'automotive o dell'edilizia per insonorizzazioni, imbottiture e quant'altro. Quindi è fondamentale che ognuno di noi porti nella propria vita la circolarità. Stamattina abbiamo sentito parlare di circular economy, ecco è fondamentale che per ogni prodotto, io oggi sono qui a parlarvi del tessile, degli abiti, ma per ogni prodotto possa essere individuato un modo per allungare il fine vita delle cose. Questa mattina si è parlato molto di certificazioni. Le certificazioni sono importanti e entrano nelle quattro C della sostenibilità. La sostenibilità significa coerenza, dire ciò che si fa e fare ciò che si dice. Significa concretezza, quindi realizzare impatti concreti, rendi contabili e misurabili. E qui le certificazioni secondo me hanno un'importanza estrema. Sostenibilità però significa anche coinvolgimento, quindi coinvolgere quanti più stakeholder possibili perché le sfide, le due grandi sfide che ci troviamo ad affrontare, la crisi climatica e la riduzione delle diseguaglianze, sicuramente non sono sfide che possiamo affrontare da soli, ma serve fare rete. L'ultima C, forse la più importante, è la cultura. Bisogna trasferire la cultura della sostenibilità, la cultura della responsabilità. Prima la collega ci faceva la distinzione tra responsabilità e sostenibilità. È fondamentale avere questo tipo di informazioni. E quindi le certificazioni da questo punto di vista sono assolutamente un perno fondamentale per poter trasferire queste informazioni ai consumatori. I brand, chi produce, ha grandi responsabilità. Responsabilità di trasparenza, responsabilità di rendicontazione per rendere i consumatori sempre più consapevoli e responsabili delle proprie modalità di acquisto. Ma noi consumatori dobbiamo comunque prenderci le nostre responsabilità e decidere quotidianamente che cosa possiamo fare per ridurre sempre di più l'impronta che lasciamo sulle pianeta. Tutti noi ogni mattina quando ci alziamo facciamo tutta una serie di attività, ci vestiamo, mangiamo, viaggiamo, ci spostiamo. Ecco, in ognuna di queste scelte ci può essere la consapevolezza e la responsabilità di lasciare un'impronta di un passerotto invece che l'impronta di un elefante. Io ringrazio ancora quindi per questo momento di riflessione e confronto. Sono assolutamente disponibile anch'io a rispondere a qualsiasi vostra domanda. Chiudo chiedendo alla regia di lanciare un breve video che sintetizza molto meglio di me che cosa umana fa nel mondo e vi ringrazio ancora. Cosa significa essere umani? In un mondo in cui le disuguaglianze sociali sono accentuate dalla crisi ambientale. Per noi di umana significa generare cambiamento sostenibile e consapevole. Per questo abbiamo scelto di essere umani essendo umana. Essere umana vuol dire gestire con trasparenza le risorse economiche e gli abiti che ci vengono affidati lavorando con competenze specifiche per garantire la qualità e l'etica dei nostri processi. I vestiti usati sono per noi semi preziosi di futuri alberi che insieme creano una foresta di azioni consapevoli che dà ossigeno al domani. Una foresta che nel mondo genera sviluppo, istruzione, attivismo. Essere umana vuol dire gestire valore, quello tangibile degli abiti che attraverso un processo virtuoso e trasparente trasformiamo in valore sociale, economico e ambientale. Trasformiamo in futuro. E lo facciamo prendendoci cura di ogni singolo capo che con attenzione raccogliamo, selezioniamo e rimettiamo in circolo grazie al lavoro quotidiano di oltre 200 persone in Italia e 20.000 colleghi nel mondo. Essere umana vuol dire tessere fili che uniscono. Partono dal vecchio continente e arrivano in Africa, Asia e America Latina. Un legame indissolubile che alimentiamo con impegno giorno dopo giorno. Essere umana vuol dire continuare a raccontare la storia di milioni di capi. Lo facciamo da oltre 25 anni, grazie al contributo delle persone per le persone, convinti che per garantire il domani serva agire oggi, insieme. Perché è solo unendo i piccoli grandi gesti di ognuno che possiamo davvero cambiare il mondo. Essere umana vuol dire credere che un futuro più eco sia possibile. Lo facciamo attraverso progettualità misurabili e solide partnership che diano la possibilità ad ognuno di diventare protagonista e artefice del proprio destino. Essere umana non vuol dire tenere per mano, ma dare una mano a milioni di persone. Perché crediamo in uno sviluppo che nasca dall'apprendimento e generi autonomia, nel rispetto delle comunità in cui operiamo. Essere umana vuol dire generare cambiamento sostenibile e consapevole. Per questo abbiamo scelto di essere umani, essendo umana. Allora, noi abbiamo già delle altre certificazioni per i vostri prodotti, quelli sul riciclaggio. C'è spazio di collaborazione? Sembra veramente molto bello, interessante, perché hai fatto una cosa interessante. Assolutamente sì. Il tema del riciclo è un tema ad oggi ancora molto embrionale. Mancano moltissime tecnologie che possano diventare scalabili per far sì che la riciclabilità dei prodotti abbia anche una sostenibilità economica e le certificazioni da questo punto di vista possono rappresentare una garanzia per fare investimenti, perché sicuramente bisognerà fare investimenti. Quindi sicuramente ci incontreremo nuovamente per dei confronti molto più concreti. Grazie. Grazie a te e do una domanda, scusate io per i nomi, per la giornalista di L'Officiel, per Giorgia. Pensi che i media, in generale, sia quelli fashion che non fashion, stiano facendo abbastanza nel sensibilizzare sul tema o forse perché il business è anche importante, le pubblicità eccetera magari vanno un po' slow? La risposta è no. No, ok. Senza dubbio. No, se ti sento, sì. Sì, perché purtroppo la crisi che c'è a livello diciamo di sistema dei media è che i giornali sono diventati molto meno rilevanti nella nostra quotidianità e per i consumatori. Purtroppo ci si trova a dover fare i conti con chi investe nel giornale e quindi supporta la vita del giornale e di chi ci lavora. Sicuramente ci sono colleghi che si impegnano quantomeno a diffondere le notizie principali. Io cerco di fare ovviamente il possibile per almeno parlare di quello che sta succedendo, delle innovazioni, dei sistemi anche diciamo innovativi, anche di produzione, di quello che comunque anche grazie alle Nazioni Unite, la Commissione Europea sta anche cambiando a livello anche di normative e quindi anche di fatti e di obblighi che le aziende avranno in futuro per continuare a poter produrre. Quindi sicuramente a livello di informazione si fa quel che si può. Conoscenza inizia ad esserci ma secondo me ce n'è ancora poca perché c'è molta confusione sulle terminologie. Cos'è green fashion, cos'è eco fashion, cos'è bio based, sostenibile, responsabili. Sono a volte termini, lo leggo leggendo io stessa quello che scrivono i colleghi, mi chiedono di spiegargli quali sono le differenze perché non c'è una vera cultura della sostenibilità ed è questa un'altra missione che abbiamo un po' tutti noi che ce ne interessiamo. Benissimo, mi auguro di aver aperto un primo canale di comunicazione anche con te, anche forte della tua esperienza, possiamo pensare di collaborare e sensibilizzare perché abbiamo questo obiettivo comune. Volentieri, grazie. Grazie, grazie mille, la ringrazio ancora per essere intervenuta. Un piccolo annuncio prima che io possa introdurre tutti i brand in tempo. Secondo voi le sfilate iniziano sempre spacca al secondo? Voi che siete esperti perché io di moda... Mai? Ok. Perfetto, allora non mi resta che ringraziare Apex, devo ringraziare appunto Apex che è stata fondamentalmente dell'istituto che si occupa di esportazioni dal Brasile. Sono loro appunto che supportano alcune società brasiliane e le aiutano a lasciarsi sempre più coinvolgere all'interno di questo lungo percorso verso il passion sostenibile. Qui con noi andiamo a Antre Limp, magari continui in portoghese, forse è più facile per te. Grazie mille perché avete sempre sostenuto le imprese brasiliane in questo percorso che permette loro di arrivare quindi alla moda sostenibile e magari non so se posso passarti il microfono giusto per una breve battuta. Grazie mille, grazie mille. Il nostro percorso è quello appunto, come si diceva, di internazionalizzazione, quindi espansione dei prodotti brasiliani sul mercato internazionale, quindi esportazione e attrazione anche di investimenti diretti in Brasile assieme all'internazionalizzazione delle nostre imprese. Noi lavoriamo in circa 50 settori nei quali aiutiamo le nostre imprese brasiliane. Sono sempre di più le imprese che noi sosteniamo, lavoriamo appunto per la promozione dell'esportazione e collaboriamo con decine e decine di imprese tracciando le loro traiettorie internazionali e dando loro aiuto appunto per diventare sempre più grandi e partecipando ad eventi come questo. Noi in effetti abbiamo appunto questo punto di forza che è lavorato da tanto tempo sulla sostenibilità e la sostenibilità ci permette di salire appunto su questo treno, di seguire questa traiettoria verso la sostenibilità per tutte. La sostenibilità che riguarda tanti diversi settori, non solamente la moda ovviamente, ma anche settori come le macchine di equipaggiamento agricolo, tecnologia in generale, servizi e anche quella che noi chiamiamo economia creativa. Sono tante e tante iniziative di sostenibilità che arrivano dal Brasile, ci danno veramente una grandissima soddisfazione. In questo momento ad esempio stiamo anche creando nuovi rapporti a livelli internazionali e la base molto forte di nuovo è quella della sostenibilità. E proprio partendo dalla sostenibilità cominciamo e continuiamo da tanti anni a aiutare queste regioni brasiliani a diventare sempre più internazionali. Ripeto, lavoriamo con il Governo federale che noi ringraziamo e ci trovo anche la possibilità. Passo all'inglese, la versione inglese, sarò veramente velocissimo appunto via a registrare a tutta questa nostra presentazione e poi me la manderò alla vostra organizzazione in inglese perché non voglio rubarvi tempo a ripetere tutto in inglese. Bene, Andrea Lenta, grazie mille, rappresenti Apex dal Brasile, ricordiamolo. Bene, in questo momento invece vi presenterei tutti quelli che sono i brand, che in effetti fanno parte del nostro fashion show di oggi. Vediamo se è possibile far vedere la mia ultimissima presentazione, il mio ultimo PowerPoint. Devo fare tre cose, devo tenere il microfono, devo aprire il catalogo, che qui è disponibile, anzi mi suggerisco veramente di prendere una copia perché qui trovate tutte le informazioni sui vari brand che adesso si faranno per vedere. E poi devo anche fare una terza cosa, cioè gestire il telecomando. Bene, ce la sto facendo, sono orgoglioso. Allora, guardate appunto l'ordine del catalogo. Quindi Celeste, Celeste è un brand, si occupa di beachwear con essenza brasiliana, così si definiscono. E loro hanno un impegno ambientale, sociale, utilizzano licra riciclata o comunque licra biodegradabile, cotone certificato, viscosa, lavorazione manuale, produzione etica perché lavorano con centri locali, con artigiani locali e pagano in modo eco per il lavoro, un lavoro appunto eco in condizioni di sicurezza e all'interno del progetto Friend of the Earth, Amici della Terra. Allora, Demo Day è il prossimo, eccolo qui, il prossimo brand è sempre brasiliano. Allora, ancora una volta un marchio che arriva dal Brasile, qui si fa riferimento alla confi come tipo di moda, quindi alle taglie comode. Ci sono anche gli utilizzi di ricamo tipico brasiliano, riciclaggio fondamentalmente upcycling o comunque anche riciclaggio. Lavorano con le comunità locali del territorio per aiutare queste popolazioni a generare il reddito e di nuovo garantiscono condizioni eque e sicure di lavoro. Si presenta anche EZEN. EZEN arriva invece dalla Nigeria. Il brand è stato fondato da Naomi e Tommy nel 2020. La fonte di ispirazione è la generazione libera di donne senza paura. Questo design racconta una storia di responsabilizzazione, autoresponsalizzazione e ricerca dell'obiettivo della visualizzazione delle fibre riciclate, che sono prodotte localmente. Ogni singolo item venduto regala un 5% del fatturato, cioè del prezzo pagato, per aiutare i bambini che altrimenti non riuscirebbero ad andare a scuola. Poi abbiamo anche ESME, ESME arriva dal Regno Unito. Allora, è un brand creato da Fashion Designer, proprio da ESME, che è il nome del Fashion Designer. Qui si lavora con Eco Cotone, arriva dall'Egitto, 100% fatto a mano. Cerchiamo di lavorare per ridurre l'inquinamento, ci dice ESME. Il prossimo brand è ancora, Kaoni. C'è qualcuno che mi aiuta? Perfetto, perfetto. Allora, Kaoni è di origine kosovara. Kaoni è designer appunto di Kaoni, sono a Pristina, la capitale del Kosovo. Sono loro che vestono dualipara, quindi fashion di tipo urbano, rompiamo le differenze di genere. Il focus fondamentale è l'upcycling e ovviamente la sostenibilità, riutilizzo di materiali che altrimenti andrebbero in disuso. Catherine Story arriva invece dagli Stati Uniti, anche in questo caso upcycling. È un fashion designer californiano, con uno stile decisamente particolare, eleganza bohemian tipica di Laguna Beach. È già un brande mondiale, fondamentalmente upcycling, tintura manuale, vintage, riciclaggio, soprattutto per velluto e sete. Poi abbiamo l'italiano Mamichi e Caruso, allora è un duo di artisti in due capi diversi, però hanno trovato la combinazione giusta, la connexion giusta per creare una collezione riciclata, ma anche con upcycling. Quindi ripeto, sia riciclaggio, sia upcycling, utilizzano materie prime che arrivano dai sacchi che contenevano caffè. E poi abbiamo anche NCC Natural Cotton Color, un altro brand brasiliano. Questo brand si trova nella regione nord orientale del Brasile, lavoriamo con dei pezzi senza tempo e in questo caso la base sono colori bio di Paraiba con tanto artigianato locale. Quindi cotone bio con certificazione internazionale, in questo caso hanno garantito anche i contattati di acquisto con i cotonieri al prezzo più elevato possibile per il Brasile. Il colore è naturale e si risparmia l'87,5% di acqua rispetto ai prodotti cotone normali. Sono delle donne, si sono raccolte in un'associazione. La catena di produzione è assolutamente allineata agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Abbiamo anche Pacoa Eco. Pacoa Eco è brasiliana, di nuovo. Ha un impatto positivo sul comparto moda. Sviluppano un tessuto basato su bucce di banane. Questo giustamente arriva dagli scarti dell'agricoltura. È un vantaggio economico per i piccoli produttori di banane. È un gruppo di donne di artigiane. Produzione quindi circolare e di nuovo realizzazioni fatte a mano. Abbiamo Tropica di nuovo dal Brasile. Il Brasile è veramente molto, molto consapevole del desiderio e necessità di sostenibilità. Tropica sostiene la cultura artigianale, utilizzo di fibre naturali, ad esempio fibre dell'Amazzonia e anche il cotone bio del Paraíba. Riciclano dei rifiuti e è così che si basa, su questo che si basa la loro catena di produzione. Zoe Close, Svizzera. Zoe produce sportswear, abbigliamento sportivo. Zoe arriva dalla famiglia Spilmans, sono dei fashion designer. Nel 2021 Zoe si è resa conto dell'impatto che l'essere umano ha sull'ambiente, per cui ha deciso di dare una mano e quindi ha sviluppato tutta una collezione sportiva. In questo caso ha preso riferimento, come avete detto prima, le reti usate dei pescatori. Tutti quanti gli abiti ci permettono di raccogliere denaro che poi viene dato alle organizzazioni che si occupano di riduzione del surriscaldamento, per cui crisi climatica. Bene, allora, per oggi io direi di terminare qui. Vi ringrazio veramente tantissimo tutti e tutti voi per la vostra pazienza, per l'interesse mostrato. Bene, allora, abbiamo terminato. Guardate, prima ancora di andare a vedere la sfilata, devo ringraziare gli organizzatori, voglio ringraziare gli interpreti, ringrazio a voi, ringrazio i tecnici, ringrazio anche i videomaker, tutto il personale che c'è qui dietro le quinte e tutto il nostro team, lavoro eccellente quello che avete fatto. Adesso ci guardiamo allora la fine del pomeriggio e l'inizio della serata con la sfilata. Con una volta, grazie mille, grazie mille, arrivederci.